Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati o eventualmente benvenuti sul mio canale Oggi sono qui con un video diverso dal solito perché voglio mostrarvi come potete cambiare la vostra esperienza di gioco Noi fan di Rockstar Games amiamo i dettagli e questo ovviamente lo sappiamo E ci teniamo alla qualità Ed è per questo ragazzi che oggi voglio mostrarvi uno strumento in grado di farvi immergere come non mai in una bella sessione di gioco Immaginate per esempio di rilassarvi nel selvaggio modo di Red Dead Redemption 2 dove ogni dettaglio anche acustico è importante Per questo ho deciso di collaborare insieme a Venis Player un'azienda che vende prodotti per noi gamer praticamente E ho avuto l'onore di ricevere e ovviamente provare le loro sorprendenti cuffie da gaming Che sono quelle che state un po' guardando all'interno di questo video E indovinate ovviamente su quale gioco ho testato la loro qualità Beh ragazzi ovviamente non ci vuole tanto per capirlo su Red Dead Redemption 2 Queste cuffie sono l'ideale per tutti coloro per esempio che vogliono giocare senza avere disturbi esterni Infatti ragazzi non ho sentito nulla intorno a me se non ciò che stava accadendo ovviamente all'interno del gioco Non mi sono neanche sentito la pesantezza delle cuffie sulla testa e questa è un'ottima cosa Dato che le cuffie che avevo prima mi pressavano un po' sulla testa Ora non so se avete presente ragazzi questa sensazione Tra l'altro i padiglioni possono anche essere illuminati quindi tanta tanta roba La particolarità comunque di queste cuffie è il microfono Infatti ragazzi non ho mai visto delle cuffie con un microfono rimovibile Per esempio ho provato a staccare il microfono e attaccarlo al DualShock e non ho avuto nessun problema Quindi se vuoi usare le cuffie per ascoltare la musica e non ti serve il microfono Semplice ragazzi lo rimuovi anziché alzarlo e abbassarlo come tutte le altre cuffie Tra l'altro la qualità del microfono è anche buona in quanto toglie i rumori E questo microfono per esempio possiamo utilizzarlo su altri dispositivi Inoltre nella confezione ho trovato anche un adattatore Che mi permette di rendere compatibili le cuffie su tutte le migliori console E una cosa molto interessante ho trovato anche il supporto per appendere le cuffie al muro Infatti come potete vedere dalla foto ho appeso le cuffie sul muro Insomma sapete bene che ci tengo alla qualità Per cui se siete alla ricerca di ottime cuffie da gaming ragazzi Quelle di Venice Player fanno al caso vostro Nella descrizione e nel primo commento vi lascio il link per acquistarle E visto che siete miei fan e che state guardando questo video c'è un regalo per voi In quanto vi è uno sconto del 10% digitando il codice 10% Quenti Mi raccomando ragazzi scrivetelo in questo modo Quenti senza la U dopo tanti anni dovreste saperlo ormai E questo codice dove si inserisce si inserisce in fase di acquisto Ok come vedete in questa foto dovete metterlo lì dove c'è la freccia Lì appunto dovete mettere il codice sconto Per ogni curiosità e dettaglio tecnico potete comunque consultare il sito ufficiale dell'azienda Quindi vi lascerò nella descrizione anche questo Così diciamo per chi vuole approfondire sul prodotto può tranquillamente guardarlo da lì E niente ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile Se è così fatemelo sapere ovviamente nei commenti Potete scrivermi anche su Instagram per avere ulteriori dettagli Se ci sono delle domande potete tranquillamente farmele lì Trovate all'interno della descrizione anche il link del mio canale Telegram dedicato alle news su GTA 6 E quindi ragazzi troverete tutto all'interno della descrizione di questo video Noi ci vediamo comunque con il prossimo video e le prossime live Adesso avete capito quali cuffie uso io Quindi se volete usarle anche voi nella descrizione trovate tutto quanto Noi ci vediamo alla prossima e ciao a tutti Ciao a tutti